Emporio del Caffè, Passo di Mirabella, in località Piano Pantano. Mister Aglietti, una partita bloccata, soprattutto nel primo tempo a vincere è stata la tensione per la posta in palio importante per entrambe le squadre. Poi nella ripresa avete subito quel gol, ma avete avuto una reazione importante nel finale. Sì, è stata una grande reazione della mia squadra, che avremmo sicuramente anche meritato la vittoria per quello che abbiamo creato. Il primo tempo è vero, un po' bloccato, però anche lì le occasioni migliori le abbiamo avute noi. La prima con la Mantia, quella con De Luca, l'altra ancora con Belli e l'altra ancora con Cremonesi. Purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro, mentre l'Avellino nella prima occasione della ripresa ha trovato il gol. Poi è diventato tutto più difficile, però non ci siamo scomposti, anzi abbiamo ritrovato energie per arrivare al pari. Non era facile, perché comunque dopo la prestazione di Cesena le scorie che avevamo, andare sotto in gare come questa non era scontato arrivare al pari. Purtroppo ci è mancato la zampata finale, soprattutto nel finale, insomma abbiamo avuto 4-5 per le gol clamorose. E ho detto che avremmo, secondo me, meritato di vincere per quello che si è visto in campo. Si sta ingarbugliando la classifica per voi, ma più in generale per tante squadre. In questo momento è davvero indecifrabile con questa risalita anche della Ternana. Possiamo dire che dalla Salernitana a scendere giù tutte sono in discussione in questo momento. Assolutamente sì, è vero. Davanti, diciamo, dietro noi non corriamo, ma davanti camminano, anzi sono quasi fermi. Vedi la Cremonese, insomma, vedi la Salernitana che aveva fatto molto bene prima. Ci sono 4-5 punti in cui c'è una decina di squadre. Il calendario sarà difficile per tutti, o chi ha le prime o chi ha degli scontri diretti. Alla fine probabilmente la salvezza sarà sempre sui 48 e comunque bisogna farli per arrivare a salvarsi. Che cosa è cambiato, secondo Ray, nell'Avellino con l'avvento di Foscarini? Forse ha dato un pizzico di tranquillità in più. Hanno vinto una partita difficile col Perugia che veniva da una serie di vittorie incredibili. Queste sono le medicine migliori. Un pizzico di tranquillità, un risultato e tutto si vede in maniera diversa. Il commissario è stato anche un grande attaccante. Che cosa passa nella testa di un attaccante non segnare per più di un girone? Ci riferiamo ovviamente a Matteo Ardemani. È un blocco psicologico a volte? Può capitare. Chiaramente Ardemani è un giocatore che in questa categoria non si discute. È un giocatore che è forte. Sicuramente ha anche tante situazioni, le vicissitudini che ha avuto. Anche qualche alterco, anche con parte del pubblico, con il letto di Avellino. Magari non lo rendono tranquillo. Però è normale anche che un giocatore così dà sempre il suo contributo. Chiaro che fortuna chi ce l'ha.